Continuano a passare al setaccio i computer e sequestrati durante l'ultima perquisizione i carabinieri di Siena nell'inchiesta sulle chat degli orrori emerse dopo la denuncia della mamma. Da quei computer continuano ad emergere immagini incredibili. In arrivo dalla Deep Web, quel mondo dove tutto è permesso, omicidi anche di bambini, I militari del nucleo investigativo di Siena insieme alla procura dei minori di Firenze hanno indagato due amici piemontesi per istigazione a delinquere e pedopornografia. Uno dei due è un genio dei computer, era tra i fondatori della chat de Shoah Party dove campeggiavano immagini raccapriccianti che inneggiavano all'ISIS, al razzismo. Il 27 luglio era già stato fissato il suo interrogatorio davanti al procuratore Antonio Sangermano che conduce personalmente l'indagine sul primo troncone, quello emerso nell'ottobre scorso. Il ragazzo chiarirà la sua posizione in quella sede, c'è tutta l'intenzione, commenta alla nazione l'avvocato Stefano Tiziani di Torino che difende il 17enne. Durante la perquisizione, a cui ha preso parte anche un tecnico informatico, i militari hanno portato via al 17enne il cellulare, tre chiavette USB e due computer. Uno è stato sequestrato, l'altro che serviva alla famiglia, i carabinieri lo hanno restituito dopo aver eseguito la copia. Negli atti viene citato anche un video di un bambino torturato con dell'olio bollente dietro la richiesta di uno spettatore virtuale.